Salve amici, benvenuti all'appuntamento con il libro di Oltre Vigata. Oggi parliamo di sport e parliamo di un libro che è stato scritto a quattro mani da Adriano Panatta e da Daniele Azzolini, giornalista sportivo che si occupa principalmente di tennis. Il libro si chiama Il tennis e musica ed è un po' la storia della carriera tennissica di Adriano Panatta che inizia alla fine degli anni 60 trova il suo culmine negli anni 70 e poi chiaramente va a conoscere il declino con il crescere dell'età del grande campione. Quindi se avete ammirato recentemente la vittoria di Fognini al torneo di Monte Carlo che ci riporta un pochettino agli anni migliori del tennis italiano sicuramente dovete leggere e apprezzerete questo libro che ci riporta all'epoca aurea del tennis nazionale quando l'Italia riusciva addirittura nel 1976 a vincere la Coppa Davis in Cile con la squadra composta da Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli. Panatta stesso vinceva nel 76 il torneo di Roma e il torneo di Parigi uno appresso l'altro e arrivava addirittura ad essere il numero 4 della classifica mondiale dei tennisti. Un libro appassionato, un libro appassionante che racconta episodi vissuti dietro le quinte da un tennista un po' guascone che forse ha ottenuto un po' meno di quello che il suo smisurato talento poteva consentirgli di ottenere ma che comunque ha dato lustro al tennis italiano. Quindi se vi piace il tennis ma se vi piace lo sport e se vi piacciono le avventure sportive in generale non mancate di leggere il Tennis e musica di Adriano Panatta e Daniele Azzolini.